ah 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 ciao care amiche e cari amici mi tocca improvvisare perché dovete sapere che il mio vecchio cellulare nokia asha 302 mi ha piantato in asso mannaggia stavo registrando questo video quando dopo averlo fatto ho scoperto che era disattivato l'audio e allora a questo punto ve lo vedete questo video ecco bravi quello che state ascoltando non è il discorso che ho fatto originalmente e quindi naturalmente voi potrete vedere che la voce è del tutto sfasata e perché io per l'appunto mi sto doppiando in questo momento come fanno i doppiatori professionali al cinema esatto con un altro cellulare ma vediamo al punto io volevo augurarvi per questo fatto questo video i miei migliori auguri per un buon natale 2020 e soprattutto quest'anno ritorno a farvi gli auguri per un bellissimo anno nuovo prospero e soprattutto ricco di sorprese di belle sorprese fecondo e che non sia come quest'anno perché io l'anno scorso ti ho augurato di avere un felice anno nuovo 2020 nel 2019 come del resto ho fatto ogni anno e purtroppo quest'anno invece come tutti noi abbiamo potuto vedere l'anno nuovo 2020 che ormai è vecchio per fortuna non è stato né felice né tanto meno prospero molti purtroppo non ci sono più molti si sono ammalati anche gravemente e soprattutto l'economia è caduta a terra e molti sono rimasti per strada allora io a questo punto mi domando e domando a tutti voi se non sia meglio ritornare all'anno scorso al 2019 piuttosto che andare verso il 2021 allora speriamo e lo voi scrivetemelo qua sotto nei commentari se il prossimo anno sarà migliore di questo perché se il 2021 non sarà un anno migliore del 2020 è inutile neanche celebrarlo se il nuovo anno 2021 sarà peggiore allora o ce ne rimaniamo nel 2020 o ritorniamo addirittura nel 2019 o 18 a vostra scelta comunque per intanto vi ammonisco mi raccomando mangiate il panettone state in famiglia festeggiate il più che potete ma rispettate le regole la distanza di sicurezza non dovete stare stipati in casa in 40 80 persone un micro appartamento di 25 metri quadrati cercate di mantenere le distanze di sicurezza pure in tavola se siete molti indossate la mascherina non eccedete negli alcolici o ecco non avevo trovato un berretto rosso è stato questo poi per quanto riguarda la barba non ho neanche trovato la barba ma tanto ormai la barba a me mi cresce bianca come potete vedere io anni fa me la lasciavo la barba cioè delle foto in instagram ma adesso guardate mi sta venendo bianca se l'avessi fatto crescere per un anno o felice natale mi sarebbe venuta una barba bianca in un anno come quella di babbo natale allora mi raccomando prendiamola a scherzare anche tutti questi inconvenienti infatti quest'anno mi doveva finire male pure col cellulare che non registra l'audio e adesso con un registratore di vocale sto facendo improvvisando questa pista audio per intrattenervi un po perché altrimenti guardate questo video senza ascoltare nulla e non ha senso il senso del video era appunto farvi i miei migliori auguri per un felice e prospero natale e per un felice però anno nuovo 2021 allora mi raccomando statevi accorti questo video lo caricherò in un mio canale secondario ma voi non lasciate di seguirmi nel mio canale di youtube principale santenchan allora ciao ciao vi saluto io manco mi ricordo cosa ho detto facendo questo video comunque alla fine ripetevo commentate sotto questo video le vostre esperienze come avete festeggiato con chi dove cosa avete mangiato se preferite il panettone o il pandoro mi raccomando come regalo di natale date like a questo video commentate qui sotto iscrivetevi al canale azionate la campanella e poi ho 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 soprattutto condividiate questo video affinché anche altri possano guardarlo e commentarlo in questo modo aiuterete questo canale a crescere ma soprattutto andate al mio canale principale santenchan e commentate condividete video che li trovate perché quel canale già più visual ed è più importante per me perché si sta avvicinando alla monetizzazione così è come se voi mi stesse regalando qualcosa per natale allora arrivederci e mi raccomando fate i bravi bambini così babbo natale vi porterà dei regali buon natale e buon anno nuovo e buona bevana e basta buono tutto quello che volete l'importante che se ne va di via questa pestilenza ecco adesso sta per finire il video mancano 10 secondi non so veramente che dire ma mi raccomando buona vigilia di natale buon natale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti